Passiamo dalla Rocca dove abbiamo avuto il Palio delle Contrade al Bastone Sangallo dove abbiamo pensato grazie a una collaborazione tra i ragazzi del Bastone Sangallo, noi e la parrocchia di Torretti di realizzare questo presepe medievale, il presepe di San Francesco perché logicamente non avremmo potuto realizzare altro perché noi siamo medievali che vuole essere la scusa per fargli auguri alla città di Buon Natale. Tutte le associazioni che organizzano un evento estivo meno male fanno qualcosa d'inverno per ricordare l'evento estivo, noi abbiamo pensato a questo evento, questo presepe medievale per ringraziare la città e ricordare poi il prossimo evento estivo che sarà il Palio, quindi siamo al Bastone Sangallo per realizzare il presepe di San Francesco. Che cosa troveranno i visitatori, qual è l'ambientazione, le scene che vivranno dal vivo? Essenzialmente le scene saranno quelle, abbiamo provato a ricostruire il presepe di Greccio, quindi l'ambientazione è quella del Medioevo in cui San Francesco realizza il primo presepe e poi vivranno questa esperienza della mezzanotte di Greccio, è chiaro siamo qualche giorno dopo Natale però essenzialmente l'ispirazione che muove questo presepe è la realizzazione di questo momento, di questa mezzanotte. E gli orari, il giorno di fruizione, quando si potrà venire a vederlo? Saremo aperti sabato 29 e domenica 30, dalle 16.30 alle 19.30, quindi dalle 4.30 alle 7.30 e ciclicamente riproporremo questo momento, però il villaggio e gli antichi mestieri così saranno sempre attivi, quindi vi invitiamo a venirci a fare un saluto, a venirci a trovare e vi aspettiamo al Bastione Sangallo, ripeto anche perché è molto bella questa collaborazione che è nata, Bastione, Parrocchia di Torrette e della Pandolfaccia.